Quando ho visto il Coravin funzionare per la prima volta nel contesto del ristorante ho capito che anche io dovevo associarmi con questo gruppo di gente del Coravin perché veramente era un prodotto che cambiava i parametri del vino per sempre. In tutti gli aspetti, aziende agricole, ristoranti, enoteche, anche consumatori a casa, veramente un prodotto che cambia tutti i parametri. Con il Coravin uno può togliere il vino dalla bottiglia praticamente senza aprire la bottiglia. Il vino viene tolto dalla bottiglia ma la bottiglia non è mai aperta e uno può tornare alla stessa bottiglia in sei mesi e un anno e risaggiarla sempre come la prima volta. Con la tecnologia del Coravin e la capacità di accessare il vino in questa maniera possiamo offrire vini che costano molto di più. Il concetto del Coravin è il servizio del vino alla bottiglia messo nel formato di vino al bicchiere. Il Coravin è un strumento che ti lascia avere un'ottica nell'evoluzione del vino in cantina che prima non era possibile solo prendere le bottiglie che a volte con bottiglie rare e molto costose non ha un senso. Adesso io posso, assaggiando col Coravin, posso assaggiare la stessa bottiglia di Borolo, di Torta nata per sei mesi, otto mesi, nove mesi e posso assaggiare più bottiglie e mi dà un'informazione dell'evoluzione che il vino che ho in cantina. Dove sta andando, come si sta maturando, quando sono pronti, quando non sono pronti e questo mi aiuta tantissimo anche a livello personale per uno che ama vino e lo vuoi conoscere sempre meglio anche al prospettivo professionale sapendo che vini di vedere in carta, che cosa spingere, cosa non vendere e sempre ti dà più informazione. Nel contesto del ristorante lavorando con il Coravin anche i sommelier e i camerieri hanno un rapporto molto più ampio per lavorare con il chef per proponare piatti che si abbinano con vini. Prima del Coravin forse l'offerta era molto più limitata. Adesso avendo l'accesso a praticamente tutta la cantina, anche vendendolo solo al bicchiere tramite il Coravin, anche il chef può avere un'immaginazione, una capacità molto più ampia di fare abbinazioni tra cibo e vino che sono potenti e alla fine siamo qui per servire il cliente sempre dando più soddisfazione, più servizio al cliente.